La nostra azienda è il secondo player in Italia del settore, ovviamente il leader altisonante lo possiamo nominare è Barilla, però ci sono realtà importantissime con nomi molto molto conosciuti come De Cecco, Agnesi e Buitoni che oggi sono dietro di noi nelle quote di mercato. Ci siamo un pochino assunti il ruolo morale di leader, abbiamo cercato di dare innovazione di prodotto, abbiamo realizzato una pasta all'uovo con farina di farro, non l'aveva mai fatto nessuno fino a tre anni fa, abbiamo realizzato una pasta all'uovo integrale quindi con semola di grano duro integrale nonostante la sfiducia totale da parte dei nostri fornitori cirericoli perché in effetti le uova non impastano molto bene con la semola di grano duro integrale e stiamo realizzando un progetto a cui tengo moltissimo di una pasta all'uovo a basso indice glicemico, voi saprete che l'indice glicemico è la velocità con cui gli amidi quindi i carboidrati presenti nella pasta si trasformano poi in zuccheri, mediamente la pasta all'uovo a 55 di indice glicemico quindi un'alta velocità di trasformazione in zuccheri noi siamo riusciti attraverso una logica di impasto tradizionale e una lavorazione esclusivamente meccanica senza utilizzare fibre a ridurre questo indice fino a 28, significa poter probabilmente in un prossimo futuro poter cucinare un piatto di tagliatelle anche ad una persona affetta da diabete